Un va pensiero inedito che troverà il suo contrappunto in colpi di fucile e spari di cannone udibili persino fuori dall'arena. Cantato dietro le barricate sarà l'ode dei superstiti alla battaglia. Il regista francese Arno Bernard firma così il nuovo attesissimo Nabucco, dandogli un volto storico, umano e del tutto risorgimentale. La polvere e la ferocia delle cinque giornate di Milano si confonderanno con le stanze del teatro alla scala, dove non a caso a scaldare gli animi sarà proprio una rappresentazione del Nabucco. Il conflitto tra Babilonia e Gerusalemme si lascerà trasformare nella violenza dell'Italia sotto il dominio austriaco. Una lettura con una chiave poetica forte, enfatizzata dalle scene disegnate da Alessandro Camera. Si tiene dunque debita a distanza dalla veste biblica che l'opera ha sempre indossato. Un Nabucco innovativo ma non provocatorio, quello chiamato venerdì, a inaugurare la stagione lirica. 12 serate per il dramma verdiano che quest'anno avrà l'onere e l'onore di tagliare il nastro al 95esimo festival areniano. Sarà un Nabucco ambientato mentre le cinque giornate di Milano. Scelta fortissima, penso che sia una scelta molto fedele alla fine nella sostanza profonda e allo spirito dei due creatori dell'opera. Con ben 200 rappresentazioni il Nabucco è il terzo titolo dopo la Ida e la Carmen, più ripreso tra le antiche pietre dell'anfiteatro. Con il nuovo allestimento si vuole voltare pagina, soprattutto ora, dopo il calo sconfortante del 2016, che si è intrepidante attesa per i fondi della legge Brai. Un cauto ottimismo, diciamo, dobbiamo proseguire nella strada del risanamento e dell'attenzione ai conti, ma diciamo che tutti i dati ci danno conforto. Grazie. Grazie.